Buongiorno, sono Francesco Cappello, oggi è 15 gennaio, riprendiamo le nostre trasmissioni che vanno in onda da lunedì al giovedì e durano più o meno tre minuti, più e meno o meno. Volevo parlare di Matteo Salvini e della sua Lega Nord, però purtroppo sono costretto a parlare, sono costretto, passo su Libero Grassi e Matteo Salvini poi me lo faccio un'altra volta. Perché Libero Grassi? Ieri hanno iniziato un ciclo di film dal titolo Liberi Sognatori e ieri è toccato a Libero Grassi. Sinceramente Libero Grassi, la storia, tutta la vicenda, mi ha fatto venire un magone, un'angoscia che solo i film nazisti mi permettono di avere la stessa angoscia, la stessa impossibilità a fare nulla, perché è questa la cosa. Noi sappiamo già come va a finire con Libero Grassi, sappiamo già che fu ucciso il 29 agosto del 1991. Chi è Libero Grassi? Libero Grassi è un imprenditore siciliano che, titolare di un'azienda di manufatturiera, decise di non pagare il pizzo al clan Medonia a Palermo. perché non pagava il pizzo? Perché semplicemente non lo riteneva giusto, non riteneva giusto che foraggiare certe cose e certe situazioni. E soprattutto voleva che i suoi concittadini, i suoi colleghi, voleva che anche loro non pagassero il pizzo, cioè si potesse uscire da questo girone infernale. Non si è uscito in questo girone infernale, lo sappiamo che il pizzo viene pagato chi più chi meno, chi più in parecchie aree o macro aree o micro aree. Purtroppo è una conseguenza della mafia, che è sempre una grande montagna di merda, come diceva Peppino Impastato. Spero che fosse lui. Perché si sentono tante cose su Facebook e poi magari su Facebook, su internet, e poi magari non è lui, eccetera. Vabbè, sorvoliamo. Comunque, Libero Grassi, un uomo libero che decide di dire no alla mafia e per questo suo gesto, poiché poteva essere di esempio, preso ad esempio da altri suoi colleghi, viene ucciso. Non puoi dire no alla mafia, devi forza dire sì. Infatti un giudice che dà una sentenza in quell'epoca, una sentenza che giustifica il pizzo, è veramente un pezzo di merda. Finiti tre minuti, cominciamo un ciclo di saluti, salutiamo questa mattina l'hotel Alba Chiara. Ciao, buona giornata a tutti, ci vediamo domani.